È il colonnello Vincenzo Di Stefano, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Mantova. Di Stefano, di origini siciliane, sposato e con due figlie di 10 e 13 anni, si è laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna. Ha frequentato l'Accademia Militare di Modena, poi ha iniziato una brillante carriera che lo ha portato a ricoprire ruoli sempre più importanti sino al 2020 con il comando del reparto operativo di Bari, in carico precedente a quello attuale di Mantova. Ieri, giorno del suo insediamento, ha avuto modo di incontrare i diretti collaboratori e nei prossimi giorni incontrerà le altre autorità provinciali. Stamane è stata invece la volta dell'incontro con la stampa. Quali sono, secondo lei, in un momento di questo genere, le priorità, soprattutto per un territorio come quello di Mantova, che viene giudicato abbastanza tranquillo dalle forze dell'ordine, ma la percezione invece di insicurezza tra la gente è molto forte? Guardi, io credo molto nella vocazione, anzi la vocazione dell'Arma dei Carabinieri è quella di prossimità ai cittadini e alla comunità. L'obiettivo sarà questo, proprio quello di consolidare questa funzione di rassicurazione sociale che l'Arma dei Carabinieri deve fare a favore dei cittadini, della comunità e della provincia di Mantova. Negli ultimi tempi però anche la provincia di Mantova è diventata più violenta, abbiamo avuto liti che si sono trasformati in accoltellamenti, discussioni che sono finite in risse. Come si può affrontare ed arginare questo fenomeno? Guardi, queste dinamiche ancora ovviamente le stiamo approfondendo. L'impegno nostro dell'Arma è quello di assicurare in sinergia, in perfetta sinergia con tutte le altre forze di polizia, di affrontare in maniera puntuale e precisa queste dinamiche di sicurezza, ovviamente sotto la direzione dell'autorità provinciale di pubblica e sicurezza e il coordinamento ovviamente della Procura della Repubblica. Che messaggio si sente di dire ai mantovani? Io già vi ringrazio per l'accoglienza, quindi il messaggio iniziale è grazie per questa, sono onorato per questo incarico assunto e il mio impegno sarà quello di consolidare e ulteriormente rafforzare questo apporto che l'Arma dà di prossimità alla gente.